Ci troviamo qui tra Vairano Patenora e la strada che porta verso Ailano, verso Prata Sannita, proprio dove c'è il fiume Volturno che periodicamente ogni qualvolta c'è qualche eccessiva pioggia o straripa o rischia di straripare. Come possiamo vedere il letto del fiume sta proprio quasi a livello della strada, possiamo anche inquadrare un po' il tramonto che si specchia nelle acque del fiume ed è veramente impressionante lo spettacolo è meraviglioso a vedersi però è impressionante per la pericolosità che può succedere, infatti proprio in questi giorni diversi comuni come anche il comune di Vairano Patenora sono chiuse tutte queste strade, le strade che portano a cosiddette quattro venti quindi al bivio lì di Raviscanina, San D'Angelo d'Alife, andando verso Alife, Piedimonte e anche qui dove c'è il ponte che collega proprio Vairano Patenora con il comune di le zone di Ailano e via Cantando. Questa è l'attuale situazione di oggi sperando che nei giorni successivi non riprenda a piovere in maniera eccessiva così il letto del fiume può rientrare nella sua normalità. Grazie